Ed eccoci qui ragazzi e ragazze come sempre in compagnia del vostro Diabrotex per continuare su Fairytale in versione PS4 in collaborazione con Plion Italia Ringrazio come sempre tutto lo staff di Plion Italia per avermi concesso questa bellissima collaborazione Ringrazio Kuei Tecmo Games, tutti gli iscritti ma anche i non iscritti che comunque mi seguono qui sul mio canale YouTube Detto questo direi che possiamo continuare, allora il ventilatore è qui acceso quindi posso respirare Allora, adesso bisognerà, dovrò andare avanti qui, ma qui ci sono anche delle, ah non possiamo Non posso continuare le missioni qui nella bacheca, va bene, non le posso continuare forse perché siamo nell'epilogo Vabbè tanto poi per fatti miei farò una seconda run, tanto non aveva neanche senso portare tutte queste missioni Tramite gameplay perché tanto sono tutti uguali, vai lì, fai la caccia, poi ritorni lì Quindi nulla di storia, non c'era nulla Vediamo un po' qui Ah non possiamo chiudere la missione qui, non è un problema Andiamo un attimino da questa direzione e poi vediamo un po' di andare verso la missione principale Vediamo un attimino Spero di non sbagliare Non è qui Quindi in pratica ho sbagliato Mi sono sbagliato, vediamo un po' Ok Qui la possiamo portare a termine E vabbè, qui sì ragazzi, qui ce l'abbiamo fatta Nulla di impegnativo ma Allora Ah dobbiamo andare qui ragazzi Dobbiamo andare qui Con il famoso viaggio rapido possiamo fare tutto Senza molti problemi O almeno così si spera Così si spera Vediamo un po' Va molto molto bene Sì Ma qui non ho capito la missione l'ho fatta Oppure possiamo chiuderla Fermi un attimo eh Fermi un attimo magari mi sta indicando O magari l'abbiamo chiusa in precedenza Non ricordo Comunque andiamo a vedere Andiamo a dare un'occhiata Ok possiamo chiuderla Perfetto Perfetto Così mi piace E adesso andiamo verso la destinazione Principale Ci sarà qualche combattimento Credo che molto probabilmente Bisognerà combattere Tanto l'epilogo mi sembra Che sia tutto Un po' Un combattimento Ed è giusto che sia così Ah vediamo un po' Diamo un'occhiata Ehm? Ruan Cioè 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 Ci sono Non Cioè Sì, che ci sono i nostri ragazzi di fare un'imprimazione, ma non è necessario di avere un'imprimazione. Quindi noi siamo in questo anno, hanno fatto un'imprimazione. Sì, è vero? Come si è che la Revi? E' un'imprimazione, ma... Per me non mi per la Fiorgi? Per me tornare a fare un'imprimazione. Oggi, per me si vede a un'imprimazione per la Fiorgi? Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Allora, fermi tutti un attimino Fermi tutti un attimino Ok Possiamo continuare per ora un attimino qui Non me ne volete Ok Vediamo se abbiamo Qualcosa di nuovo per equipaggiare meglio Perfetto Allora, adesso dove si va ragazzi? Ci sposteremo in questa zona Ci sposteremo in questa zona E vediamo un po' Il da farsi Vediamo un po' il da farsi Allora, qui possiamo chiudere Un'altra missione Sono contento di questo Un'altra sub quest, diciamo Un'altra sub quest Quindi Niente di approssimativo Ma Fantastico Fantastico Possiamo chiudere anche questa ragazzi Ottimo Veramente ottimo Non me lo sarei mai aspettato Ah, quindi qui non possiamo passare Secondo La loro fantasia Secondo la loro mente malata Eh Ebbè Ah, ho capito Bisognerà forse fare il giro Perfetto Faremo il giro Io credevo che bisognava Non possiamo passare anche qui Faremo il giro più lungo Ragazzi Prima o poi Una strada Bisogna trovarla E non è che Bisognerà trovare una strada Proviamo un attimino Qui, eh Proviamo un attimino Vediamo un po' Sì Li possiamo sterminare Ci mancherebbe Ci mancherebbe Li possiamo sterminare Wow Voi dite che la strada è questa? Dite che possiamo passare qui? Forse Io non dico nulla ragazzi Poi Fate voi insomma Però siamo riusciti Nell'impresa, eh Siamo riusciti Nell'impresa qui Eccoci qui Vai Affronteremo la battaglia Ci mancherebbe Ci mancherebbe Mamma mia ragazzi, vediamo un po' la battaglia qui in che modo verrà affrontata Io credo che verrà affrontata in un modo molto tranquillo perché siamo molto potenziati Quindi tanti saluti, veramente tanti saluti Qui vediamo un po' Fantastico, fantastico Credo ci saranno altre battaglie Un po' più impegnative Noi Perfetto ragazzi Qui è durato un po' Un pochino forse l'episodio 3 Non è durato poi così tantissimo Insomma Niente di Vabbè Vediamo comunque Ok Qualcuno arriva nel mio team Non ho ben capito Start Episodio 4 Eh si inizieremo l'episodio 4 Cosa faremo qui Ora scopriremo tutto Scopriremo tutto ragazzi Ok Si Let's go Se vogliamo iniziare per me non è un problema Oh no Oh no Oh no Oh no L'exasera è la sua? È un hoste? Oh no Oh no L'exasera Non si Non si Non si Non si Non si Si L'exasera Non si L'exasera L'exasera Non mi sento, non mi sento. Icchia, sì? Nei, è il vostro, Icchia. Alla, la Cusus è un'embranza. La Cusus è un'embranza. La Cusus è un'embranza di questo Gildo. Grazie a tutti 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 Perfetto ragazzi anche qui sembrerebbe Quasi tutto a posto Quasi non dico nulla Comunque sbaglio sempre i comandi ragazzi Sbaglio sempre inutili Allora Vediamo un po' Molto molto bene Ok poi chi abbiamo? Ah ok lui non possiamo ancora... Eh no Perfetto ragazzi vediamo adesso dove bisognerà andare Vabbè usciamo da qui Vediamo un po', ecco si torna qui ragazzi Si torna qui Si torna qui Eh beh In qualche punto bisogna tornare no? E' sempre così E' sempre così ragazzi E' sempre così ... Perfetto ragazzi, allora Dove si va? Dove si va? Eh, non è finita, tranquilli Perché non è assolutamente finita Allora, vediamo un po' Ok, dovrebbe essere qui, eh Perfetto Una battaglia molto semplice, credo Non credo che... Non credo sarà una battaglia molto... Colpiremo con attacchi molto leggeri Perché tanto... Colpiremo con attacchi molto molto leggeri E beh Fantastico Però abbiamo altri nemici da... Da sconfiggere Ma sono convinto che poi ce ne sarà uno Un po' più... Impegnativo Vuoi dire che posso sbagliare? Certo, possiamo... Posso sbagliare, ci mancherebbe Allora, andiamo qui Tanto qui la destinazione è giusta, no? Perfetto Stiamo calmi, eh Stiamo calmi Stiamo calmi Allora Bisogna parlare per il momento Più che altro qui, eh Non bisogna combattere Per il momento Poi vedremo, insomma Poi vedremo Poi vedremo Poi vedremo Eh sì Molto molto bene, sì Ok Ok Allora Io vado Io continuo Verso la mia scalata qui Quindi adesso Non mi stai Non mi stavo Questa è La mia La mia Questa è Oh, ma Sbagliato Sbagliato Non mi piace Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ah, abbiamo finito anche l'episodio 4. Ragazzi, qui veramente si va sul breve? Veramente qui si va sul breve. Mamma mia. Mamma mia, ragazzi. Molto, molto breve. Ma a questo punto io direi di... Di andare avanti, di proseguire, tanto... Non vedo grandi... Infatti è un epilogo, ragazzi, quindi non è che può durare molto, diciamo. Un epilogo non può durare chissà che o chissà cosa. Comunque... Vediamo un po', eh? Episodio 5. Vediamo un attimino. Dove si va? Eh, si va qui. Credo che questo potrebbe essere l'ultimo gameplay, ragazzi, eh? Sinceramente credo che potrebbe essere l'ultimo gameplay. Perché infatti un epilogo non è che può durare... Tanto tempo, insomma. Non può durare tanto tempo. Eh no. Eh no. Cosa vuole qui questo... Cosa vogliono questi uccellacci maledetti qui? Vabbè, maledetti no, no, dai. Sono bellissimi, sono... Sono bellissimi, ragazzi. Su. No, andiamo via perché è tanto di perdere tempo con questi... Uccellini qui, insomma. Non è il caso. Vediamo un po'. Se possiamo chiudere qui anche questa subquest. Ovvio. Va più che bene. Va più che bene, ragazzi. La possiamo chiudere, ma guardate un po'. Ma guardate un po'. E adesso andiamo verso... La destinazione principale. Non so dove ci porterà. Non so contro chi bisognerà combattere o parlare. Lo scopriremo a breve, però, ragazzi. Lo scopriremo molto a breve. Non è un problema. Non è assolutamente un problema questo. Assolutamente no. Una nuova zona? Non mi sarei mai aspettato una nuova zona, ragazzi. Vi dico la verità, non me lo sarei mai aspettato. Vabbè, però va bene. Però va bene. Va molto bene. Allora. Allora. Bisogna passare di qui? Vabbè, qui non possiamo assolutamente... Proviamo e vediamo un po' come va la situazione qui, eh. Vediamo un po' come va la situazione in questo modo, ragazzi. Vediamo. Diamo un'occhiatina. Eh, qui un bel gruppo... Sono un po' devastanti qui, eh. Sono un po' devastanti, quindi... Basta, però. Mamma mia, ragazzi. Ancora. Vabbè. Ora possiamo combattere, che dite? Possiamo combattere. Possiamo combattere. Andiamo. Eh, ora sì che mi diverto, ragazzi. Ora sì che mi voglio divertire. Ora mi voglio divertire. Per forza. Per forza. Per forza mi devo divertire adesso. Per forza mi devo divertire, sì. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia. Mamma mia. Io non dico nulla, eh. Non dico nulla. Abbiamo fatto un bordello, va bene così? Va benissimo. Mamma mia, ragazzi. Io dico solo, mamma mia. Non aggiungo altro. Non aggiungo altro. Allora. No, no. Fermi tutti un attimino, eh. Fermi tutti, ragazzi. Perché qui... È stato un po' devastante. Allora, fermi. Proviamo questo scontro, eh. No, ma adesso andremo avanti. Non è che... Non è che combatteremo tutti... I nemici che incontreremo, ragazzi. No, assolutamente non sarà così. Non per paura, ma... Per non far durare il gameplay 20 ore, insomma. Sì che siamo all'epilogo. Però, insomma, dai. Insomma. Ah no, resistono qui. Ah, resistono a tutto? Vabbè. Tanto vale dargli comunque... Una piccola lezioncina come si deve. Ancora. Ancora. Mamma mia. Perfetto, ragazzi. Molto, molto bene. Molto, molto bene. E tanto qui resistono a tutti, quindi... Se resistono a tutto, io quasi, quasi... Colpisco a più non posso. E non è un problema. Non è assolutamente un problema. Andiamo. Andiamo. Sempre meglio qui, ragazzi. È sempre molto meglio, sì. Sempre molto meglio. Vediamo un po'. Allora. Per fare un po' di danno... Va benissimo anche l'attacco singolo così, eh. Per fare un po' di danno, ragazzi. Vai, livello 54, ottimo. Io credo che siamo ad un buon livello qui, eh. Credo che siamo veramente ad un livello... Allora, ragazzi. Adesso non è per cattiveria, ma... Non è assolutamente per cattiveria, eh. Ci mancherebbe. Fermi tutti. Ma io eviterò molto gli scontri, eh. Ripeto, non è per cattiveria, ma non è che possiamo restare qui... Tutto questo tempo, insomma. Tutto questo tempo non... Non va affatto bene, assolutamente no. Anche perché, ripeto, sono mostriciattoli che possiamo tranquillamente... Sconfiggere senza... Tanti problemi. Sì, un po' di esperienza possiamo anche farla, ma io credo che... Siamo ad un livello giusto per chiudere... Anche l'epilogo. Poi... Posso anche sbagliare, ma... Non credo più di tanto, eh. Non credo più di tanto. Mamma mia. Tenterò la fuga qui, eh. Non perché ho timore, perché... Ragazzi, io ve lo dico, li posso sterminare... Come... Ed ogni volta che voglio, eh. Non è un problema. Ma non è assolutamente un problema. Oh, siamo quasi arrivati... A raggiungere... Fermi, andiamo su. Almeno qui raccogliamo gli... Raccogliamo i materiali, gli ingredienti, quello che serve, insomma. Vediamo un attimino. Vediamo un attimino. Stai calma, stai calma. Stai calma. Devi star calma. Allora, vediamo un po'. Siamo arrivati, che bello. Che bello. Allora... non è molto difficile? sì, magari è vero ovviamente, potete farvi un'oggiamento a chiedere? Eh? Un'oggiamento? Se ci sono i nostri, ci sono difficili da fare la ricetta, quindi pensare a pensare di pensare un'oggiamento di un'oggiamento di ricetta e usare un'oggiamento di Fiora che potrebbe essere un'oggiamento di ricetta Vediamo un po? Quindi Allora ragazzi, fermi tutti Fermi tutti Adesso farò una cosa giustamente Per non rifare tutta la strada Così qui Rientreremo all'inizio E possiamo andare a chiudere questa missione Avete capito il mio lampo di genio ragazzi Il mio lampo di genio Via Possiamo chiuderla, va bene così Perfetto E adesso possiamo andare In questa zona qui ragazzi In questa famigerata zona qui Vediamo un po' Qui siamo anche vicini Non siamo lontani Anzi Qui si fa veramente veloce Non so chi abbiamo Se avremo qualcuno da affrontare oppure no Comunque possiamo andare Possiamo andare Possiamo andare Un'altra Un'altra nuova zona ragazzi No vabbè Non me lo saremmo Ma da dove spuntano fuori Cioè non l'ho ben capito Non l'ho ben capito Non l'ho ben capito Ma comunque va bene Non l'ho ben capito Ma che parla Nessere che c'era Perché c'era Cioè non l'ho ben capito Non l'ho ben capito Che c'era Un'altra nuova Ma che c'era Ma non l'ho ben capito Cioè non l'ho ben capito Ma che c'era Allora ragazzi Siccome qui Ci sarà ancora un po' da fare Ci sarà ancora un po' da fare Magari Sì c'è ancora un po' da fare qui ragazzi Vediamo un po' Affrontiamo un attimino questi Mostriciattoli Giusto per capire un attimino Un po' la situazione Nulla di che Nulla di che ragazzi Vediamo un po' Perfetto Qui credo che posso fare un po' di punti esperienza Perché Vediamo un attimino se come dico io Bah sì insomma 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 Vediamo un po' Giusto per capire un attimino Devo solo capire un attimino La situazione qui Nulla di che Nulla di che ragazzi Allora fermi tutti Vediamo un attimino Vediamo 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 Perfetto Vai Nulla di che ragazzi Niente male qui ragazzi Veramente niente male E no Andiamo un attimino qui Giusto un attimino Giusto un attimino ragazzi Giusto Un attimino Vediamo un po' Proviamo Proviamo Comunque un epilogo Veramente bello sostanzioso E' un epilogo ben sostanzioso Qui ragazzi Devo essere sincero Devo essere sincero Devo essere sincero Perfetto Perfetto Molto molto bene Sì Veramente molto molto bene Qui Ah Possiamo chiudere anche qui ragazzi Meglio di così Non possiamo fare Quindi Meglio di così Non possiamo fare Vediamo 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 Giusto così Per capire un attimino Non per Giusto per capire Un attimino Ragazzi Maremma Andiamo via Non per paura, eh Ci mancherebbe E la strada è ancora un po' Avrei voluto interrompere il gameplay Ma ho voglia di proseguire qui, ragazzi Quindi ho voglia di proseguire Quindi credo che andremo avanti ancora un po', eh Chi lo sa per quanto tempo? Non lo so Lo scopriremo insieme Dai, basta Basta, su Andiamo via Vediamo un po' qui Molto, molto bene Bisogna tornare anche dietro, purtroppo Eh, non possiamo far altro Quindi Cosa vi devo dire? Cosa vi devo dire? Ok Stavo sbagliando, eh Purtroppo E dico purtroppo E dico purtroppo E dico purtroppo Mmm Vediamo un po' No Calmi, eh Calmi un po' tutti Calmi tutti Calmi tutti Calmi tutti qui, ragazzi Calmi tutti sulla questione Calmi tutti su questa questione, sì Ehm Vai Molto, molto bene, sì Molto, molto bene, ragazzi Benissimo Benissimo Vediamo un po' Mmm Mancano solo due Due punti qui Però non so se poi è finito il capitolo L'episodio 5 Non il capitolo L'episodio Andiamo Forse è fatta anche qui, eh Forse è fatta anche qui Forse è fatta anche qui, ragazzi Mmm Adesso Ehm No Allora Non sono No, non è che non sono sicuro, ragazzi Attenzione Devo ripristinare un po' Ok Ora sì Ora magari sono pronto, eh Ora posso essere pronto Oh 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 Ah Monster Si Non ci sono Ah Come Sì 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 Voi Sì 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 Allora non l'ho fatto in tempo ma non è un problema Non è che non è un problema ragazzi È un problema sì È un problema sì perché avrei dovuto colpire Vabbè lasciamo stare va bene in questo modo proviamo Proveremo la battaglia se riusciremo a terminarla con una vittoria Io non dico nulla io al momento non dico nulla Meglio non dire nulla al momento Al momento resto in silenzio Perché comunque sono nemici abbastanza Sono nemici abbastanza potenti Ah resiste qui Vediamo Insomma Insomma Ah ce l'abbiamo fatta ragazzi Ce l'abbiamo fatta E salgono anche di livello Meglio di così non posso fare Non avrei potuto fare Sì È un problema di prodotto Non ne le dico È un problema di prodotto Vabbè Vabbè C'è Vabbè C'è Vabbè C'è C'è ho troppo è una cosa che è un progettino allora, faccio il viaggio questo è un piatto! è un pozzo! è anche un pozzo qui c'è un bel c'è la c'è un bel c'è ooon oそれじゃあ一口だっけ nè non è c'è 苦労して取ってきた甲斐があったわねー データものを残さず q それこそが男 Grazie a tutti 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 Perfetto ragazzi Allora episodio 5 concluso E allora a questo punto Vediamo un po' Oh qui ne sono qui sono io ma staglia di cali oia infatti ma il è qui qui il 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 Oh! Ma stai a cercare di me, e mandi tornare! Oh! 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 Oh... Oh... Hmm... Hmm... Oh! Oh... 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 Wow... politically semphen... And... Hmm... 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 Hmm?... eh! ciò io sono 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 bene io Perfetto ragazzi Allora diamo un'occhiatina Adesso posso scegliere Allora Semplice non è che ci vuole poi così tanto Non ci vorrà poi così tanto Perfetto Allora ragazzi Anche se il gameplay magari Durerà ancora un po' A questo punto Vediamo un attimino Ah E allora no ragazzi Allora non Non credo Non credo che posso Ok No allora Chiuderemo tutto nel prossimo episodio ragazzi Perché abbiamo un po' Sembrerebbe che abbiamo tante cose qui da fare Quindi nel prossimo episodio Chiuderemo Sarà il capitolo finale Credo di Fairy Tail Quindi per il momento Il vostro Diablotex qui chiude un altro episodio Per quanto riguarda Fairy Tail In collaborazione con Plyon Italia Ringrazio come sempre Tutto lo staff Di Plyon Italia Per avermi concesso Di portare questa bellissima Collaborazione Su questo titolo Veramente stupendo Ringrazio anche Koei Tecmo Games Tutti gli iscritti Ma anche non iscritti Che comunque mi seguono Vi ringrazio di cuore a tutti Per averse Magari Per aver In anticipo Vi dico Per aver seguito Anche magari Questo episodio E vi ricordo Come sempre Se vi farà piacere Magari di lasciare un like Un commento Condividere il gameplay Ed iscrivervi Sul mio canale YouTube Grazie di cuore a tutti E credo che il prossimo episodio Potrebbe essere Quello finale Non lo so Lo scopriremo insieme Ciao a tutti ragazzi E alla prossima